Ciao, io sono Francesca Davino, ho 26 anni, sono di Torrenunzata in provincia di Napoli. Attualmente vivo a Milano per il mio lavoro, sono una prof di sostegno e mi piace tanto il mio lavoro. Ho studiato tanto per realizzare questo sogno, ma ne avrei un altro, ossia quello di diventare un'attrice. Studio tanto anche per questo e spero che quanto prima possa diventare realtà. Mostro i miei profili. Spero che questo video non abbia annoiato troppo e durato poco e spero che attiri l'attenzione di qualcuno. Un saluto.